Martina Bellini, nazionale dello sci di fondo, una stagione iniziata con qualche difficoltà per il passaggio di categoria ma che ha portato una medaglia scintillante da Universiadi, com'è andata? Sì, è stata una stagione molto difficile per me, è stata dura ma come hai detto te sono riuscita a superare un po' il momento difficile con questa medaglia che è stata veramente un toccasana e nel male qualcosa di bello e soddisfacente è arrivato. Dicevi che ti stai già allenando per la prossima stagione? Sì esatto, siamo già ripartiti con i raduni e già iniziato col botto diciamo, già il primo raduno si è fatto sentire però sono motivata, carica e spero di far bene. E tu sei anche un esempio perché sei anche una studentessa all'università, economia aziendale se non sbaglio qualcuno mi dice che sta andando anche bene. Si fa quel che si può, se faccio una cosa cerco sempre di farla bene quindi ci tengo tanto anche all'università e speriamo di finirla in tempi non troppo lunghi. Un'università che peraltro, l'Università di Bergamo, ha lanciato questo dual career, un progetto importante in cui voi atleti siete equiparati agli studenti lavoratori quindi avete un tutoraggio maggiore e quindi capiscono anche qual è la vostra condizione di atleti. Sì esatto, ho avuto anche modo di parlare con il rettore che è una persona veramente disponibile a favore di questi progetti che sono sempre più importanti per noi atleti e infatti grazie a questo progetto ho la fortuna di fare l'università in tempi anche più lunghi perché altrimenti sarebbe impossibile e mi stanno aiutando tanto quindi li ringrazierò sempre. Vabbè dai, la dottoressa fondista la salutiamo qui e ci vediamo la prossima stagione. Ciao. Grazie.